Ma ciao, com'è? Stai? Stressato? Stanco? E' anche normale? E' normalissimo? Ma noi, questa sera, siamo qui per fare un rilassamento guidato, quindi quello che ti chiedo è di sdraiarti, metterti, posizionarti su una poltrona, meglio ancora su un letto. Lo abbiamo tutti, un letto. Forse qualcuno un divano o una poltrona non ce l'ha, ma un letto lo abbiamo tutti. L'importante è che tu ti metta comodo o comoda. E possiamo cominciare in questo cammino che ti condurrà ad un sonno. Un sonno profondo, 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 profondo. Un sonno profondo, 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 profondo. Rilassati, 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 rilassati. Rilassati, 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 rilassati. Comincia, come ripeto, a sdraiarti e vedo che già lo hai fatto, benissimo, indossa delle cuffie, indossa delle cuffie, delle cuffiette, anche bluetooth, quelle che vuoi, l'importante che siano di buona qualità, per far sì che tu possa sentire bene la mia voce e per far sì che tu possa sentire bene e vedere bene la mia immagine, quello che adesso ti mostrerò, ma diciamo che è più importante la voce. Sai che a me piace scherzare? Che vita sarebbe senza un sorriso, senza uno scherzo, senza un qualcosa di... leggero, 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 leggero. Come stai? Sei ancora svegli? Bene? Mi fa piacere? Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Com'è? Non ho capito. Ha cominciato a piovere, sì, stai sentendo bene, ha cominciato a piovere, e chi lo sa, questa pioggia potrebbe aiutarti a dormire, a prendere sonno. Quello che ti chiedo è una semplice cosa che dovremmo, che dobbiamo cominciare a fare insieme. È una semplicissima cosa, un semplice gesto che a volte non ci viene naturale. Noi viviamo perché respiriamo, respiriamo. Quindi quello che ora dovrai fare è prendere aria dal naso, quindi inspirare, trattenere il respiro per un secondo, massimo due, non di più, e poi espirare, inspiriamo, ed espiriamo. Quando inspiriamo, riempiamo bene la pancia, la pancia si deve gonfiare, lo facciamo insieme. Sei pronto? Sei pronta? Benissimo. Cominciamo. Cominciamo. Prendiamo il primo respiro. Non ho capito? Quando inspiri, l'aria la senti su, 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 su. E la pancia non si gonfia, ma si gonfia quando espiri. Sai che potrebbe essere vero? Te l'ho detto che a me piace scherzare. L'importante è che tu faccia quello che io ti sto consigliando di fare. È un consiglio. Va bene? Invece. Prendiamo l'aria. Si riempiono i pulmoni. L'aria va verso l'alte�imitiva. uno o due secondi tratteniamo l'aria e poi espiriamo, espiriamo, bene, su ancora, prendiamo l'aria, balinazzo. Io sono a me, mi raccomando, ancora una volta. Fuori tutta l'aria, fuori tutta l'aria, ancora una volta. L'ultima, questa è veramente l'ultima. Prendiamo l'aria dal naso, espiriamo ed espiriamo. Prendiamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Dovresti già sentirti meglio. Dovresti già sentirti meglio. Dovresti già sentirti più rilassato. Adesso stai tormento. Sei nel mondo dei sogni. Sei nel mondo dei sogni. Stai tormento. Stai sognando. Stai sognando. Stai vedendo il tuo corpo dall'alto, dall'alto della tua stanza. Non devi preoccuparti. È una sensazione molto bella. Sei uscito dal tuo corpo. Sei fuori e stai osservando il tuo corpo dall'alto. hai una visione a 360 gradi di tutta la tua stanza, di dove ti trovi. Provi un senso di smarrimento, ma allo stesso tempo un senso di beatitudine, di leggerezza, di leggerezza. Osservi i colori. Stai osservando i colori, le luci, le ombre che ci sono all'interno della tua stanza. E osservi il tuo corpo adagiato sul letto e come per magia lo puoi accarezzare. Puoi accarezzare il tuo corpo. Puoi accarezzarlo. Lo puoi sostenere. Lo puoi abbracciare. Puoi abbracciare ti stesso. Puoi abbracciare il tuo corpo. Puoi fare tutto. Stai volando. Stai volando. Stai volando. All'interno della tua stanza. Puoi fare tutto, qualsiasi cosa. Sei leggero. Sei una forma di luce. E adesso ti comincia a piacere questa sensazione perché sei un tutt'uno tra corpo, mente e anima. Sei una cosa unica seppur stoppiato perché stai continuando ad osservare il tuo corpo dall'alto. lo guardi disteso, completamente morbido, disteso, sta sprofondando nel letto il tuo corpo. E' una bellissima sensazione. E' una bellissima sensazione. Continua ad ascoltarmi. Continua a guardarmi se vuoi, se ce la fai, altrimenti mi ascolti e basta. Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Bene. Mi fa piacere. Mi fa piacere che tu ti senta bene, ti senta rilassato. E stai continuando ad osservare il tuo corpo dall'alto. Adesso è il momento di ritornare pian pianino, piano piano. o vuoi fare un giro, magari la prossima volta, magari la prossima volta, in un prossimo sogno. Chi lo sa? Chi lo sa? Mi fa piacere. Perché ti sento, ti sento molto vicino. Mi fa piacere. Mi fa piacere. Di come tu ti stia sentendo in questo momento. Mi fa molto piacere. guarda il tuo corpo e rilassati, rilassati, rilassati. Continua a mantenere questa sorta di leggerezza, di leggerezza. e vai, piano piano, vola, 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 verso il tuo corpo. Vola, 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 vola. Il tuo corpo è lì, che ti attende. Ma non c'è nulla di strano. È tutto normale. Ed entri dalla testa, rientri nel tuo corpo. Quella che è entrata nel corpo è la tua anima. E ti invito a riflettere sulla tua anima. Il perché è uscita dal corpo. E perché adesso è rientrata nel corpo. Te lo dirò in un altro sogno. Sei dentro al tuo corpo, a questa scatola, a questa scatola magica. Il tuo corpo comincia a sentire una forma di tranquillità, serenità, leggerezza. Ora senti il tuo corpo più leggero rispetto a prima. Prima era pesante. Prima che la tua anima uscisse dal corpo, il corpo stesso era pesante. Ora è più leggero. È rilassato. E stai dormendo. Stai dormendo bene. Stai dormendo benissimo. Non c'è nessuno che ti disturba. Sei completamente rilassato. Sei nel mondo dei sogni. Stai respirando con regolarità. Stai respirando con regolarità. Stai dormendo profondamente. Stai dormendo. Stai dormendo profondamente. Stai sognando. Stai sognando le cose più belle. Quello che accadrà. Riesci persino a vedere il futuro. Un futuro meraviglioso. Un campo di fiori. Un campo di fiori rossi. A fianco ce n'è un altro. Un campo di fiori gialli. E in fianco ancora ce n'è un altro. Un campo di fiori bianchi. Prova nella tua mente a mischiare questi colori. Prova nella tua mente a mischiare questi colori. Mi fa piacere. Riesco a sentirti. E' come se io fossi all'interno. del tuo sogno, nella tua mente, all'interno del tuo sogno, sto vedendo anch'io quei campi di fiori, mi sto vedendo anch'io, insieme a te, ti sto accompagnando, ti sto prendendo per mano e ti sto portando a fare una passeggiata tra quei campi, in mezzo a quei campi di fiori, ti sto accompagnando, piano piano, piano piano, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, ti sto accompagnando, ti sto accompagnando, ti sto facendo compagnia, ti sto abbracciando, non temere niente, non avere nessuna paura, non temere niente, non avere nessuna paura, non temere niente, non temere niente, continua a sognare, continua a rilassarti, continua a goderti questo viaggio, questo viaggio nel sonno, questo viaggio nel mondo dei sonno, continua a rilassarti, continua a rilassarti, a non pensare a niente, abbandonati, ti senti leggero, nonostante tu stia dormendo, non senti più niente, non senti più niente, non vedi più quei campi, non senti più l'aria che c'era in quei campi, non senti più nulla, e sai perché? Perché stai dormendo, stai finalmente dormendo, sei rilassato, 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 stai dormendo, stai finalmente dormendo, e io ti auguro una buonanotte, buonanotte, Buona notte, buona notte, buona notte, buona notte.